Sabato 1 aprile le associazioni del patto insieme per il parco Nervesa organizzano l'evento festa di primavera presso i giardini di via Nervesa nel municipio 4. Tra il palinsesto ricco di eventi che inizieranno a partire dalle ore 10 e 30 sono previsti un laboratorio gratuito di ceramica e un'improvvisazione teatrale per bambini. Per maggiori informazioni per prenotare la propria partecipazione scrivere una mail all'indirizzo associazione terraco chiocciolagmail.com